Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Aethos, che mi chiede di parlare del film del 1971, scritto e diretto da Donald Trambo, tratto dal suo libro, e Johnny prese il fucile, famoso più che altro per avere gli spezzoni nel video di One e The Metallica, che l'hanno fatto riscoprire in realtà a un pubblico più giovane in quel periodo, fino agli anni Ottanta. Detto questo, il film è praticamente la storia di John Bonham, un giovane statunitense che venne mandato praticamente in Francia durante la Prima Guerra Mondiale. Salta su una mina, è un incidente incredibile, perde braccia, gambe e la possibilità di parlare e di potersi esprimere con gli altri. Quindi ridotto a un tronco umano, viene portato a un ospedale dove viene portato avanti con esperimenti per cercare di capire. Il nostro in realtà però ha una coscienza, sa come cercare di comunicare, prova a comunicare muovendo la testa, ma viene sedato sempre di più, finché un'infermiera non riesce a capire che sta comunicando col sistema del Morse. E di lì in poi tutta la sua voglia, insomma, di poter essere o ucciso oppure diventare fenomeno da baraccone per far capire la guerra dove porta alla distruzione e tutto il resto. Ma in realtà tutto quello che lui vorrà fare non sarà assolutamente cato dagli alti militari. E quindi un film terrificante in realtà, che racconta appunto il presente e il nostro all'interno di questa stanza reinchiusa, con questa maschera fantastica, con un totale bianco e nero, racconta invece i sogni e i suoi ricordi, lui da giovane, da ragazza e tutto il resto, con degli splendidi colori, così come poi invece in realtà arrivano delle botte di surrealismo, dei suoi pensieri, quando parla con Gesù, quando discute appunto di tutto quello che gli hanno insegnato, che invece li va contro ai suoi valori. In tutto questo il nostro è stato aiutato da Luis Buñuel, che gli diede una mano proprio a livello di scrittura per dargli un'idea di come poter girare queste scene oniriche. Fu fantastico, tra l'altro, chiaramente però la parte che funziona più è quella, in bianco e nero, nell'altro che è veramente terrificante, anche se poi tutto il resto, tutto quello che c'entrano, tutte le parti a colori, ci raccontano di un'America che un'altra volta viene deflagrata da Donald Trump, che si è fatto un anno di galera e che ricordo nel 49 è dovuto scappare in Messico per almeno 7-8 anni, ha vinto 3-4 Oscar i suoi film firmati da lui, che però hanno preso gli Oscar gli altri, che lui è dovuto andare a prendere tipo 40 anni dopo, quando è stato riabilitato dal maccartismo, che ripeto, chiunque era comunista, il nostro era comunista a livelli duri, durissimi, è stato praticamente cacciato, non ha potuto lavorare per anni, lavorava di sottobanco, ha vinto gli Oscar con dei film che hanno preso, prendendo le statuette, altri che poi lui, chiaramente, poi gli altri e lui hanno dichiarato, era roba mia, una volta che è stato, diciamo così, rimesso in circolo, perché l'America si sa, fa le sue punizioni, poi si lava le mani e li siamo tutti a posto. Ma Donald Trump è sempre stato cattivissimo verso tutto ciò che era, praticamente, l'istituzione che non fosse quella socialista, e in questo film è un film contro la guerra, sì, ma è un film più a favore della vita, cioè le guerre che cazzo le fate affare proprio, non è nemmeno dell'idea, la soluzione in questo momento verso un problema così grosso è la guerra, no, è proprio la soluzione, è assolutamente non pensarle le guerre, quindi un libro utopico in realtà, con uno dei finali più terribili al mondo a livello filmico, che si possono vedere con il nostro che cerca di comunicare e che comunica un SOS continuo, praticamente, attraverso semplicemente il Morse, è un film tremendo, uno di quei film che ti lascia veramente col cuore spezzato, perché è un film che parla a tutti, non è un film per niente piccolo, che lavora su dei sistemi, appunto, come il senso di colpa, la patria, la guerra, la morte, la pace, l'idea appunto del combattimento per salvare qualcosa di così importante, appunto come un territorio, in questo film viene ribaltato e viene trasformato e raccontato attraverso un personaggio appunto che non può parlare e che ogni tanto ci racconta con la sua immaginazione, con la voce narrante e soprattutto appunto con i suoi ricordi e ciò che insomma di più lo attanaglia, per me un capolavoro assoluto del cinema, ma il trattato ancora non così riconosciuto al grande trumbone, per me questo video di Donald è un grande film, uno sceneggiatore mostruoso e un regista che dimostrava di avere una mano clamorosa per un film secondo me meraviglioso, che tutti dovrebbero vedere per capire come qualunque tipo di guerra in realtà ora, specialmente dopo la seconda guerra mondiale, sia completamente fuori di cervello, perché ci sono tutti i mezzi diplomatici e mentali per capire insomma che il sistema per trovare un accordo o un qualcosa è sempre quello della diplomazia, ma ormai sembra essere una dimenticata di tutti perché siamo circondati da guerre e morti in ogni dove, ripeto però il link è qua sotto, da sul patro, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su youtube e questo è giorno di presa del fucile per me è un acquisto obbligato, inutile dirlo.